ciao cari amici e lettori di ACMN Insight ben ritrovati e se la prima volta benvenuti sul nostro canale youtube dove io Giuseppe e Lollo vi riportiamo le notizie che riguardano appunto i nostri colori come di consueto prima di iniziare lo sapete ormai per chi ci segue vi chiediamo di lasciare un like di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video dove cerchiamo di portarvi dentro casa spero piacevolmente le notizie che riguardano il Minon e poi vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri canali social dove qui in descrizione troverete link o che vi ricordo instagram telegram facebook tiktok youtube twitter praticamente ci trovate ovunque di seguire il nostro sito www.acmianinsight.com per rimanere costantemente aggiornati su tutto il mondo rosso nero poi ricordo le tifose rosso nere la nostra particolare rubrica dedicata a loro chiamata milaniste inside in cosa consiste semplice vi faremo una piccola intervista con delle domande banali del tipo perché sei milanista il tuo giocatore preferito di sempre il tuo giocatore preferito attuale consigli da dare alla squadra poi vi chiederemo di inviarci delle foto e noi provvederemo poi a pubblicare il tutto sui nostri canali social e sul nostro sito come partecipare basta contattarci con un messaggio sui nostri canali social punto o un'email che troverete sul nostro sito quindi cosa aspettate se l'idea vi piace andateci a contattare e fatelo adesso il video di oggi nel video di oggi andremo a parlare di colui che sarà il direttore di gara come abbiamo appreso dalle designazioni di ieri il direttore di gara sarà il signor michael fabbri michael fabbri è un arbitro 38enne nato se non sbaglio nell'83 ed è della sezione di ravenna lui inizia la sua carriera nella stagione sportiva del 2000 2001 e dopo la classica trafila nelle serie minori approda il lega pro nel 2009 2010 mentre nel 2012 viene promosso in serie b e il 2013 fa il suo sordio in serie a e precisamente l'otto maggio del 2013 in cagliari parma mentre nel 2015 viene definitivamente promosso in serie a diventa arbitro internazionale a partire al primo gennaio 2019 in questa stagione non arbitrato ancora ai nostri colori mentre arbitrato una sola volta in salernitana napoli la nostra avversaria appunto la salernitana partita che finì con due espulsi uno per parte castagnos per i granata culipali per i gelesti arbitro che addetta di molti addetti a lavori è un arbitro presuntuoso ma che si affida spesso al var questa è una pecca il fatto che si affida spesso al var è una pecca per quando ci riguarda scopriremo dopo il perché detto ciò abbiamo conosciuto un po di colui che sarà il direttore di gara ma andiamo a conosciuto un po la partita partita che sulla carta e ripeto e ripetisco e sottolineo sulla carta è semplice quella che il minan affronterà sabato sera alla rechi di salerno contro appunto la salernitana semplice perché comunque parliamo con una delle squadre che lottano per non retrocedere ma che hanno a disposizione dei giocatori talento come liberi verti perotti bonanzoli insomma gente abbastanza di fama anche perché uno come liberi lo è perotti lo è stato nei tempi della roma partita pericolosa anche perché i di granata hanno appena cambiato allenatore e hanno preso nicola nicola ci ricorda un bel passato un bel 7 a 1 con dell'anno scorso con con il suo con la sua ex squadra sempre granata ma sponda torino andiamo a conoscere adesso invece la la squadra arbitrale al completo quindi come abbiamo detto il direttore di gara sarà il signor fabbri mentre gli assistenti arbitrali saranno bacini e rocca al quarto uomo abbiamo baroni alla var abbiamo prenna e al var arriva la becca che vi dicevo prima al var è stato disegnato aleantro di paolo perché questa questa reazione perché questa pecca di fabbri per domani sera visto che molto spesso si affida al var perché di paolo mi ricordo è colui che è stato protagonista il negativo per il milan in diversi episodi che vi vado a ricordare partendo da quello dell'anno scorso in benevento milan dove richiama l'allora arbitro pasqua per espellere tonali che aveva commesso un semplice fallo magari da giallo al centrocampo lui l'ha richiamato e lo fa espellere questo primo episodio andando avanti secondo episodio in milan napoli con arbitro in questo momento non mi ricordo chi era comunque richiama forse era lui stesso l'arbitro comunque praticamente non chiede un rigore netto a teo terzo episodio andiamo già quest'anno in questo campionato e milan verona dove l'arbitro era il signor signor pronte era il signor pronte era l'arbitro se non erro chiede il rigore ai veneti per fallo di romagnoli su calenici il signor di paolo era il var e non vide aveva avvelato il rigore non accorgendosi che effettivamente è stato calenici a commettere fallo sui romagnoli e non il contrario ma andiamo nel clou del clou dell'episodio sempre quest'anno penso che ricorderete milan napoli con un lato a che si per fuori gioco di giro che praticamente era steso a terra ci rendiamo conto quindi ritorno a dire partita che sulla carta dovrebbe essere abbastanza semplice ma non mancano le incognite a partire dalla squadra avversaria stessa per finire al non dico all'arbitro ma al var detto ciò vi saluto vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social compreso youtube naturalmente di seguirci sul nostro sito ricordo la particolare rubrica dedicata alle tifose rossonere e inoltre voglio ricordarvi che la famiglia 10.000 inside ha diversi progetti in programma e per farlo ha deciso di ingrandirsi quindi per chiunque volesse provare a scrivere articoli a commentare il nostro milan che è ben accettato ci contatti sui nostri canali social dicendo di essere interessato a entrare far parte di questa famiglia che vi assicuro che all'interno siamo una famiglia e poi noi valuteremo la vostra abilità valuteremo magari vi faremo fare un articolo di prova lo valuteremo e vi daremo una una risposta detto ciò vi saluto e sempre forza milan